Vincere è diventata una necessità, è una necessità. Bisogna approfondire qualsiasi tipo di risorsa fisica, mentale, caratteriale per vincere la partita. Devi fare qualcosa, molto più di qualcosa per vincere la partita. Quindi è una necessità, così come l'hanno manifestato i nostri tifosi stamattina con quello striscione lì, è una necessità per noi. La squadra ha lavorato bene, come sempre. Quelli che sono rimasti qui a Genova hanno lavorato più che bene. I ragazzi si sono stati in nazionale, si sono ripresentati al meglio della condizione, la squadra sta bene. Ed è pronta per giocare una gran partita, una partita importante, ma l'ho vista giusta, l'ho vista determinata, l'ho vista convinta. La squadra ha fatto le cose per bene. Sta meglio, sta sempre meglio. La convocazione nazionale gli ha dato una bella, grande iniezione di autostima, ma sulla serietà, la professionalità e il valore di Manolo non ci sono dubbi da parte di nessuno. sta meglio ed è a disposizione. Ce l'ha balisticamente quel numero lì, quel tiro lì, ce l'ha. Ce l'ha, fa parte del suo repertorio. Ne ha fatti tanti, dico così. È ritornato carico, chiaramente la chiamata è nazionale per un calciatore. Credo che sia il massimo. Innanzitutto è una squadra che, dopo la vittoria che ha conseguito contro la Juventus, è una squadra che ha acquisito fiducia, autostima. Moralmente troveremo una squadra che sta a posto, perché poi quel tipo di vittoria aggiunge quel propellente lì. ha cambiato allenatore da, probabilmente, due settimane adesso. Cercherà di fare, di proporre qualcosa di diverso, qualcosa l'ha fatto vedere con la Juve, anche se poi la partita vera in 11 contro 11 è stata di 40 minuti, perché gli altri 50 l'ha giocata in superiorità. ma si vede che è la strada che vuol percorrere di un certo tipo. Quindi l'abbiamo preparato in funzione del tipo di avversario, sapendo cosa fa. E siamo pronti.